ok zoe che ore sono l'app msc for me e gli schermi interattivi includono tutti una mappa interattiva della nave sulla quale è possibile controllare dove sono localizzati i punti di interesse a bordo che ore sono ok zoe che ore sono sono le 22 e 5 meno male la ora ok zoe accendi la tv no ma che aveva gotti giusti ok zoe vada via che va